Dobbiamo fare un decalogo comportamentale da dare ai turisti, poi ci siamo accorti che la precedente giunta con l'assessorato del commercio, la signora Carla Rei, l'aveva già fatto. Il decalogo comportamentale c'è già un paio d'anni, è lì, è una specie di progetto nel cassetto, l'ex assessora l'aveva già lanciato, aveva già messo dei cartelli sui pontili dei vaporetti, però non basta, noi abbiamo delle idee per implementare questa idea. Non è mai decollato in realtà, non ha mai raggiunto i turisti veramente? No, perché i turisti sono milioni e milioni, abbiamo intenzione di far rendere questo decalogo comportamentale, virale e famoso nel mondo, in rete e non solo, in modo che in tutto il mondo si sappia che Venezia è una città diversa dalle altre, che non è Disneyland, non è un parco giochi, ma è una città abitata da abitanti e quindi per forza bisogna seguire, per il turista, delle regole. Poi faremo quello per i veneziani più avanti perché sono i primi a non comportarsi sempre molto bene. Io vorrei fare una conferenza stampa a Roma, come venesia.com, come venesia.com in collaborazione con l'amministrazione, è lo stesso, l'importante è farlo, poi se vogliono che non metto il nome, non metto il nome. E' una conferenza stampa al palazzo della stampa estera, io conosco il presidente, un signor olandese, Martin, e far fare in tutti i giornali del mondo la notizia che Venezia invita i suoi ospiti a seguire delle regole. Poi vorrei presentarmi dalle agenzie viaggi più importanti del mondo, faccio l'esempio Booking.com muove il 55% delle prenotazioni mondiali e vorrei suggerirgli di mettere il link con le regole per vivere Venezia in ogni prenotazione entrante a Venezia. Infine invitare le compagnie aeree che nei voli in arrivo a Venezia proiettino il decalogo comportamentale, magari con un po' di soldi facciamo un piccolo video magari scherzoso sui dieci punti del decalogo. Allora la mia educazione ormai fa parte sia dei turisti che dei veneziani, noi per primi siamo i primi a rispettare la nostra città, però ormai ci accorgiamo che Venezia sta diventando sempre più difficile da vivere perché? Perché le strade sono intasate, la gente non sa come muoversi in una città che è particolare come Venezia, arrivare in bici in piazza Marco è un esempio lampante di quello che succede ora, oppure mangiare per terra in area marciana, gente che ultimamente fa il bagno nei canali di Venezia. Cioè veramente si è perso quello che è la storicità della città, cioè una città storica, una città d'arte, di cultura che deve essere valorizzata e rispettata. Qualche esperienza personale? Eh beh, ma la viviamo tutti i giorni nei canali, faccio un esempio stupido, la persona che non trova un bagno pubblico la fa in acqua oppure chi in questi giorni di calura si tuffa nei canali, chi butta le bottigliette d'acqua o l'immondizia non sa dove metterla e naturalmente non se la porta a casa ma la butta nei canali. Una città, ripeto, delicata come Venezia ha bisogno di tutt'altro turismo, di una persona che si sappia comportare come devono sapersi comportare i veneziani comunque, perché noi siamo i primi che dobbiamo dare il nostro esempio.